No ma le freglie Ok comunque andai lì sotto e mi tenevo a distanza Non ce lo voglio Lasciati via Free vs Free Chi è che tiene il tempo? 3, 2, 1, vai! Si diverte, guarda come si diverte! Fa fuori una Il primo che ho preso è stato il suo compagno di squadra Subito Non mi archerai Non mi archerai Non mi archerai Quantino è quello che è? E' una schese impazzita, è un elemento di distorsio Sì, guarda che c'è gente Sì, c'è gente Si va a attaccare il vento Non lo sò Non lo so Aldo stringi qua Aldo stringi qua Aldo Gira al posto Gira al posto Gira al posto Gira al posto 30 secondi Free vs Free 3 3 vs Free 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1